Sembra quasi incredibile che si sia dovuto aspettare così tanto per accertare una verità che come ci ricordava Angelo Mangano molti cronisti o meglio pochi cronisti però avevano già iniziato a denunciare da subito il nostro direttore Paolo Liguori ricordiamo fatti e misfatti, più fatti e misfatti dedicati a questo. Ci sarà un punto di verità, un raggiungimento finale? Questo è un importante tassello ed è intanto una pietra miliare nel percorso di ricerca della verità sulle stragi ma dobbiamo però ricordare che non siamo arrivati alla fine perché quello che è scritto in questa sentenza è fondamentale e sul depistaggio scarantino ma in generale possiamo parlare anche sul depistaggio del furto della agenda rossa di Paolo Borsellino e su tanti altri aspetti di questa sentenza. Il punto vero è che quei depistaggi sono serviti per occultare le responsabilità di soggetti esterni a Cosa Nostra e l'inquinamento delle indagini e le false dichiarazioni messe in bocca al pentito, a Vincenzo Scarantino, in realtà non sono opera esclusiva di funzionari dello Stato e dei tre poliziotti che verranno rinviati a giudizio probabilmente o di Arnaldo Labarbera c'è da ricostruire la cabina di regia e la cabina di comando sopra ad Arnaldo Labarbera ed è lì che bisogna adesso puntare per arrivare veramente alla verità sulle stragi quindi anche il ruolo della politica in questo è molto importante io penso che questa sentenza, mi permetta di dirlo, dimostri comunque l'incapacità della politica dello Stato di prevenire i depistaggi o di raggiungere il fine di processare se stessi perché se questo lavoro che ha fatto la magistratura in questi 26 anni, importantissimo nonostante purtroppo alcuni errori durante il percorso, ci fosse stato da parte dello Stato cioè se avessimo avuto esponenti delle istituzioni al posto dei collaboratori di giustizia e mafiosi che fossero andati da soli davanti all'autorità giudiziaria a denunciare ciò che sapevano e ciò che ancora sanno, probabilmente non saremmo arrivati a questo punto quindi il passo successivo è continuare a puntare ai riflettori su questa, sulle stragi su quello che è successo in quegli anni per fare in modo che persone che hanno fatto parte delle istituzioni e che in quegli anni erano appunto ai vertici della politica e dello Stato possano andare a raccontare ciò che sanno Quando oggi il ministro Di Maio dice che l'atteggiamento mafioso lo si riscontra anche in alcuni uomini di Stato addirittura nelle banche, non rischia di confondere le acque? No, non rischia di confondere le acque è chiaro che le mafie oggi sono una cosa e il comportamento di certi banchieri o di determinati vertici non c'entra nulla con quello che conosciamo come criminalità organizzate come 416 bis to cure il punto però vero da evidenziare è che siamo oggi arrivati ad un punto dove spesso e volentieri troviamo che i metodi che anche le mafie utilizzano non sono più soltanto e propriamente quelle dell'intimidazione ma anche e soprattutto quelle legate alla corruzione e quindi è su questi fenomeni che bisogna interrogarsi perché i colletti bianchi e in generale i banchieri, gli imprenditori, gli avvocati, i commercialisti tutti quei professionisti diciamo che oggi abbiamo nel nostro paese sono tutte purtroppo abbiamo trovato tanti esempi di persone che collaborano con le organizzazioni criminali che le tengono in vita, che le fanno crescere e purtroppo c'è una commistione ed è lì che bisognerebbe andare ad incidere sul recidere i legami non solo tra politica e mafia ma anche fra tutta questa serie di professionisti e le mafie in questo senso leggo le affermazioni del ministro Di Maio Salvatore Borsellino, il fratello Di Paolo ha chiesto collaborazione con lo stesso Di Maio con lei stessa in qualità di presidente della Commissione Giustizia alla Camera ma anche per la sua esperienza passata l'ho già incontrato, lo incontrerà in che modo il vostro colloquio potrebbe portare un contributo? Non c'è solo il fratello Di Paolo Borsellino ci sono tanti parenti di vittime di mafia, di stragi o di omicidi ancora senza una verità storica che attendono giustizia in questo paese un appuntamento importante sarà sicuramente il 19 luglio in Via D'Amelio e quello è un appuntamento in cui è bene che i cittadini possono essere invitati a partecipare e a dare il loro contributo perché non è mai stato soltanto un'eccasione di commemorazione ma un'occasione di lotta, di battaglia di rinnovamento della voglia di ricerca della verità e di piani per il futuro quindi quello sarà sicuramente un appuntamento importante a Palermo il 19 luglio per tutta la giornata e però c'è da fare tanto in Commissione Giustizia con una legislazione antimafia realmente efficace c'è da fare tanto come Commissione Antimafia perché noi abbiamo la possibilità di avere questa Commissione d'inchiesta e di riscoprire il ruolo dell'antimafia parlamentare che non deve essere di sostituzione del ruolo della magistratura ma piuttosto di supporto ripristinare un po' il metodo che è stato quello di Tina Anselmi quando nacque la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla P2 a me piacerebbe rivedere, a noi tutti piacerebbe rivedere quel tipo di metodo applicato anche alla ricerca della verità sulle stragi da parte della Commissione Antimafia di questa diciottesima legislatura Giulia Sarti, Presidente della Commissione Giustizia e la Camera la ringraziamo per essere stata ospite quest'oggi a Dentro i Fatti